La vita non ci ha chiesto di essere forti, ci ha obbligati. Lo confide al prefetto di Foggia Giovanna Belluno, nuora di Giovanni Panunzio, l'imprenditore ucciso dalla mafia a Foggia il 6 novembre del 92. Panunzio si era rifiutato di pagare il pizzo al racket delle istruzioni. Eravamo non soli di più. Se non era per mia moglie, la mia famiglia, ero completamente solo. Oggi per fortuna c'è collaborazione o c'è spirito di condivisione. Foggia celebra il ricordo di Panunzio nella piazza, lui intitolata Ci sono le autorità, ci sono i ragazzi della vicina scuola Murialdo. Quello che dobbiamo fare è creare una cultura della legalità, una cultura antimafia, partendo dai ragazzi. Noi stiamo investendo moltissimo sui ragazzi perché lì possiamo cambiare la nostra società, la nostra città, investendo sui ragazzi e sulla cultura della legalità nelle scuole. Ne sono orgoglioso e felice di questa giornata, anche perché i ragazzi rappresentano il nostro futuro e quindi, ripeto, ne sono fiero che sono qui oggi con noi. Negli ultimi tempi la squadra Stato ha incassato risultati importanti nella lotta alla criminalità organizzata foggiana. Resta però la ferita del pizzo, con ancora molte imprese e aziende sotto schiaffo. Se vogliono hanno tutto per potersi riscattare, anche perché le istituzioni oggi sono presenti, cosa che all'epoca, quando successe la disgrazia di mio padre, erano completamente assenti.